Quattro serrate di musica con artisti di livello nazionale non solo, immersi nel paesaggio naturalistico, culturale ed artistico. E questo è il Campli Festival 2010 che aprirà le porte della città il 25 luglio prossimo. Si riprende dopo cinque anni, le serate naturalmente sono a pagamento, prima una volta era a ingresso gratuito, adesso sono a pagamento, però sono quattro nomi importanti, sicuramente per Campli. Inizierà il 25 luglio Roi Paci con gli Aretusca, una band molto nota al pubblico giovanile. Poi sarà la serata di Nicola Conte, artista conosciuto a livello internazionale, grande jazzista del genere giovanile. Poi seguirà a Santo Nofrio la serata con Neffa, altro artista italiano molto apprezzato dai giovani. E poi concluderemo la serata, la rassegna musicale del Campli Festival con un artista internazionale quale Tochigno. Noi la dobbiamo vedere con un altro spirito, cioè far conoscere il nostro territorio. Campli in questa maniera sta cercando di inserirsi con la Scala Sanda, con la Biblioteca, anche a livello culinario, diciamo con la famosa porchetta di Campli, per far conoscere il loro territorio. Soltanto con questa nuova soluzione che abbiamo in mente, perché ci siamo già risentiti anche con il sindaco Giovannini, possiamo risolvere un po' il problema del nostro territorio. Siamo passati da un anno un po' traumatico per le note vicende, quest'anno dobbiamo cominciare a risorgere.